Ehi la, buongiorno, buonasera, buon'ottima e benvenuti nel nostro canale Io sono Allie e io sono Auri e venite su Alia Auri Channel Come avete già letto dal titolo, finalmente siamo tornate con la nostra collezione di cover Un video veramente richiestissimo Vi sveleremo le cover che usciranno sul nostro sito alle ore 18 Di oggi che è appunto giovedì Il nostro sito di e-commerce tra l'altro si chiama www.aliaurichannel.it Dove pubblichiamo sia i nostri prodotti must have tra cui le impulse, lo smartwatch Che i prodotti logati a l'orecena tra cui ad esempio la maglietta in questo caso è quella rosa Ma sono troppo basse però comunque c'è il logo e la striscia delle farfalle Quindi oggi vi mostreremo tutte le nostre cover per il mio telefono che è un iphone 12 blu E per il mio telefono che è un iphone 12 pro gold Veramente bellissimi Tra cui molti di quelle che mostreremo oggi Ci saranno disponibili alle ore 18 di oggi E vi ricordiamo che questo weekend per chi è iscritto alla newsletter ci sarà il 10% di sconto Perché è il complimese del sito E avete tempo fino ad oggi appunto oggi a giovedì Se vedrete questo video successivamente Non si potrà appunto più iscriversi alla newsletter per avere lo sconto Ovviamente ci si potrà iscrivere Per avere dei nuovi sconti, dei futuri sconti magari in onore dei nostri compliani ma E quindi niente oggi vi mostreremo appunto tutte queste cover Vi daremo anche tutte bene le specifiche, i modelli, i colori Anche diciamo altre cover che non c'entranno una cosita però sono la minor parte Perché veramente queste qua le abbiamo pensate per la nostra community Perché riflettono nel nostro modo di essere Una piccola parentesi è perché mi sono fatte le nuove unghie Lì là in onore diciamo del mio compleanno Che è martedì 25 Segnatemi perché sarà festa nazionale Sono appunto così con qua diciamo onografico e qui i brillantini E niente le adoro troppo Prima di iniziare volevamo fare una piccolissima parte due parentesi Esatto come vi abbiamo detto nel video di lunedì Tutte queste cover saranno per i modelli di iPhone Specifici o meno che vi diremo appunto nel corso del video Questo perché noi appunto abbiamo sempre avuto iPhone E anche perché fare dei modelli di cover per Samsung Per Oppo, Huawei avremmo dovuto veramente averne tantissime Perché ci sono molti più modelli di Huawei, Oppo, Samsung Piuttosto che iPhone E tra l'altro la settimana prossima Vi spoilereremo una bellissima e fantastica e mega gigante novità Riguardo telefoni Usati Rispetto ambiente Insomma ci tenevamo a fare questa parentesi Perché nel video di lunedì che è stato watch on my iPhone Tantissimi commentano scritto Potreste fare la cover per il mio telefono Che è magari una marca appunto particolare Purtroppo per ora no Faremo solo iPhone E direi di iniziare subito con il video Direi anch'io Il primo modello di cover che sta all'interno Nella nostra cover collection Sono delle cover che non sono logate ma sono veramente specialissime Perché le abbiamo selezionate solo per la nostra community Infatti le troverete sul nostro sito oppure le trovate già Dipende da quando state guardando questo video E noi vi lasciamo comunque tutti i link qui sotto in info box Se avete intenzione di acquistarle appunto Ma direi di farvele vedere Tadà Sono bellissime Letteralmente sono senza parole Ma soprattutto veramente sono una gamma di colori che ci rispecchia tantissimo Tra l'altro stanno bene con qualsiasi cosa Con qualsiasi outfit Con qualsiasi colore di unghie Pensate per ogni stagione Come è fatta una cover Allora Non è rigida però non è neanche morbida Ed è di gomma Internamente ha diciamo questo camuscetto super mega morbido Che protegge dietro Ha i tastini sotto È fatta così Ed è fantastica Abbiamo testate praticamente tutte Anche se era inverno Quindi diciamo che i colori tipo giallo Non erano proprio così Però l'abbiamo provate tutte Adesso vi facciamo vedere tutti i colori che troverete sul sito Lilla Devo dire queste qui si abbinano perfettamente con le mie unghie Sono fenomenali Ovviamente c'è in Lero Che è il classico colore E veramente lo potete mettere ovunque Con qualsiasi outfit E sempre il davanti di gomma E il dietro Camuscino Poi abbiamo questo rosa diciamo Pig super 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 mega carino Bellissimo Qua sempre camuscino Bellissimo Secondo noi ci sta tantissimo bene Per la primavera Proprio top Poi invece c'è il rosso Che sapete che io adoro il rosso Questo qua l'abbiamo dato ad esempio Super mega acceso A Natale Sì tra l'altro noi stiamo progettando Di lanciare le cover tipo da mesi Poi c'è questo verdino verde acqua Stupendo davvero Tipo quello Tiffany In contrapposizione a l'azzurro Che è proprio l'azzurro proprio del nostro canale Sì è proprio un azzurro pastelloso Cioè volete fare parte della Allie Aury Channel Family Guardate abbiamo pure la cover Perfetta Oppure se volete essere più classic C'è sempre il blu Che è il blu Ah ha minato la mia felpa Il must have Il blu veramente Tra il nero e il blu vince il blu ovviamente Poi c'è un altro rosellino Diverso infatti Questo è tipo più Rosa sabbia Mentre questo qui è un rosa Un po' più acceso Tipo è più maialino Infine c'è ovviamente Il giallo Che sapete che io adoro Per l'estate È il mio colore Colore di eccellenza estiva Esatto Queste cover le troverete sul sito Per i modelli SE 2020 Che copre 6S 7 Ed 8 Poi troverete per il modello 11 Per il modello XR E per il modello 12 e 12 Pro Perché vanno appunto insieme Non troverete tutti i colori Per tutti i modelli Ma appunto troverete tutto Nelle schede Sul sito Tutte le informazioni E se avete altri modelli Ci dispiace appunto Ma non rientrerete in questa categoria Ma non vi preoccupate Che ci saranno diciamo Più categorie Nelle altre cover Facciamo vedere un esempio Di cover indossata Ma vedrete male sul sito Appunto io ho il telefono blu E secondo noi sono Proprio proprio belle Copre molto bene il telefono Stor bellissima Vorrei potremmo fare Sì veramente Sono amazing Ci siamo dimenticate Da aggiungere un altro colore Alle cover appena mostrate Ovvero il bianco Che il bianco Cioè il bianco insieme al nero Sono proprio i must have Vanno bene con qualsiasi outfit E' sporcabile Sembra Sì veramente Anche se è bianco Quindi potrebbe sembrare delicata E scafibile Bellissimo Davvero stupenda 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 Passiamo alla prossima categoria Comunque volevamo anche dirvi Che tutte le cover Che vedrete Che troverete sul nostro sito Arriveranno con un packaging Personalizzato Ma soprattutto Ecosostenibile Riciclato E di cartone Che adesso vi mostre Remo Bellissimo E appunto Con la scritta Li avviciano E con il nostro logo In rilievo E la scatola E' super mega resistente E qualcosa Sostenibile E si apre così Bellissima davvero Che le abbiamo piegate Praticamente quasi tutte Nelle scatoline Quindi ci abbiamo anche Messo del nostro Davvero E speriamo Che lo apprezzate tanto Poi magari Non secondo l'utilizzo Potete dire Che ne so Metterci dentro Dei post-it Dare una seconda vita Tipo Oh io so clever Seconda categoria Sono queste Che sono veramente 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 Queste sono Veramente Veramente Belle E queste qua Le chiameremo Polografiche Perché sono bellissime Da angolazione Di luci diverse Diventa una cover Che prende vita Cioè Ci sono Quattro colori Ovviamente Cioè L'azzurrino Questo qua Che veramente Sembrano le onde Del mare Bellissima Stupendo Poi c'è il nero Che va bene Per tutte le stagioni Per tutti gli outfit Poi anche Super mega elegante Secondo me ci sta Molto carino Esatto Poi c'è un lilla Bellissimo Questo qui L'ho messo sul mio telefono Per farvi vedere Appunto La cover è fatta così Ha i bordi Copre tutto E il dietro È questo qui Arriva anche Con una pellicola Che si può rimuovere Per evitare Che si rovini Mentre al suo interno È fatta così Bianca E l'ultimo colore Che c'è È questo rosino Bellissimissimo Tipo un rosa confetto Che potrebbe essere Abbinabile alla maglietta No è super mega Abbinabile alla maglietta Anzi Oggi veramente Un esplua di genialità Prizzano un gioia Da tutti i pori Sì i pori di estate Ragazzi Volentemente L'azzurrino Lillino O tutti i colori Esatto Perché queste cover Le troverete sempre Sul nostro sito Tutte e quattro Tutti e quattro i colori Esatto Per iPhone E6 2020 Che quindi copre 6S 7 e 8 Poi iPhone 11 E iPhone 12 11 Pro E iPhone XR E nulla Speriamo che vi piacciono Adoro troppo Io per questo estate Probabilmente Alternerò la gialla Con questa Perché wow È stupenda Continuando con altre cover Ma dunque la terza categoria Queste sono veramente Veramente bellissime Sono uniche Non abbiamo mai visto Tadà Sono bellissime Ma volete mettere Sono delle esplosioni Di colori pazzesche Di nuvole Anche queste ci sono In quattro varianti Di colore E queste qui Sono diciamo Morbide Trasparente Il colore del vostro iPhone Infatti appunto È così Qui si vede L'iPhone Qui c'è la stampa E qui Sempre fatto così E copre Bellissimo Tra l'altro Questo qui si avviene Pure al mio blu Dell'iPhone E al mio blu E l'iPhone L'ha messa tantissimo tempo Davvero E non si è minimamente rovinata Zero Il primo colore è questo qui Ovvero cambia dal blu Al bianco Ed è super mega fine Super mega bella Poi invece c'è questo colore qua Che è esplosivo direi Passa dall'azzurra Ha un rosa molto power Ed è bellissimo Bellissima E veramente veramente bella Sprezzagioia da tutti i vari Poi abbiamo questa qui Invece è Boom C'è rosa Azzurro Bianco Su sfondo bianco E anche questa è proprio Proprio bella Mentre invece questa È direi La parte opposta Cioè la parte dal basso Esatto È tipo Il rosa L'azzurro E il bianco I ragazzi Veramente noi Le adoriamo Fanno la loro figura Anche queste qui Sono proprio proprio belle Anche per un regalo Molto originale Tranne Eccola qui Anche perché le cover Non bastano mai Cioè Per abbinarle agli outfit Cioè C'è una cosa super carina Siamo delle matte Tutto questo Oppure per abbinarle Alle tue amiche Alla tua migliore amica Cioè Vado Anche queste le troverete sul sito Oggi alle ore 18 E sono per i modelli iPhone SE 2020 Quindi come abbiamo detto prima Copre 6S 7 e 8 Poi iPhone XR iPhone 11 iPhone 12 e 12 Pro Quindi queste tre categorie Che per ora vi abbiamo mostrato Ricoprono questi modelli di telefoni Adesso invece La quarta cover del nostro sito Ricoprirà più modelli Sono i nostri cover Logate personalizzate Che vi abbiamo già spoilerato Nel video di lunedì Che se non l'avete ancora visto Correte a vedere Eccoli qui Le nostre fantastiche cover Logate Le abbiamo già fatte vedere Nel video di lunedì Però qua veramente Sono diciamo Il gioiellino Di questo video Queste cover Sono biodegradabili Fatte con materiale riciclato Come si può vedere Dalla grana Sono fatte appunto Di paglia di grano Quindi Super mega riciclate Rispetto dell'ambiente Ovviamente Noi veramente Le amiamo Sono le nostre bambine Le abbiamo disegnate E pensate interamente noi Come abbiamo già detto Qui al logo E qui alla striscia di farfalle Che sembrano prendere il volo Queste cover Sono fatte così Diciamo che Sono abbastanza flessibili Però sono biodegradabili Quindi al loro interno Presentano diciamo Pallini Ecco In quella nera Sono più chiari Rispetto alla grana Della cover I colori Che ci sono In totale Sono 5 Queste cover Tra l'altro Ci sono Per Per più modelli Ossia Per iphone SE Di seconda generazione Quindi 6S 7 e 8 Poi iphone XR Ma anche X ed XS Iphone 11 Iphone 12 Iphone 12 Pro Quindi qui ci sono più modelli Per darvi una maggiore insomma Varietà di shield hand Ma i colori invece qua cambiano Perché se per tutti i modelli Ci sono queste tre Quindi nera Rosina E bianca Quella verdina E quella lillina Ci sono solamente Per i modelli 12 e 12 Pro Perché diciamo Sono special Ecco Sono un'intenzione speciale E sono veramente Veramente stupende Ve le facciamo vedere Sul telefono Appunto Eccola qui Bellissima Noi ce l'abbiamo su Da un po' di tempo Per testarle E le abbiamo Veramente Veramente amate La stampa non è minimamente Andata via Neanche di un graffio Neanche proprio Grattando Sono andata via No è proprio bella Poi le farfalle Sono stupende Un mini consiglio Essendo biodegradabili Quindi fatti con Paglia di grano Sono un po' più delicate Se le mettete Nelle tasche Dei pantaloni Tipo dietro Infatti potrebbe Colorarsi il bordo Basta utilizzare Tipo lo spruzzino Quello per pulire E si puliscono Con un panno Però se fate un attimo Di attenzione Ed evitate di metterla All'interno dei jeans Essendo appunto Di materiale biodegradabile Noi vi lo diciamo Perché le abbiamo appunto Testate Tantissimi giorni Però questa qua All'interno dei jeans L'ho pulita Tra l'altro Queste qui hanno La particolarità Di arrivare in un pack Speciale a parte Sempre super mega Ed ecosostenibile Rispetto all'ambiente Ossia Questo qui È speciale Perché appunto Fa intravedere Il logo Che è bellissimo Wow Quindi veramente C'è la cover È biodegradabile Il pack è biodegradabile Il nostro packaging Esterno Quindi la scatola Pagliuzza Sono biodegradabili Speriamo tanto Che tutte le cover Che vi abbiamo mostrato Che ci saranno Su sito vi piacciono E che acquisterete Magari fateci sapere Un parere Qui sotto Nei commenti E se acquisterete Magari fate una storia Dove ci taggerete Così vi riposteremo Perché siamo super curiosi Di vedere Quale vi piaceranno E quale diciamo Andranno di più o di meno Per ricordarvi Su Instagram E su TikTok Ci chiamiamo Aliauri.channel E su Pinterest Aliauri.channel Tutto attaccato Adesso invece Vi mostreremo Delle cover Che non ci sono sul sito Ma che comunque Fanno parte Nella nostra collezione Però sicuramente Sono minori Sono meno belle Rispetto a queste Per terminare La nostra collezione Di cover Vi mostriamo Queste qui Che sono quelle Diciamo che abbiamo Da tanto tanto tempo Abbiamo due cover Trasparenti Per fare i dog È stra stra comune È vero Io Sono trasparente Ma veramente È piena di ditate È un po' Diciamo La pecca Della cover trasparente Abbiamo due monocolore Una nera E una rossa Senza lode Senza infamie Per noi C'è una regola Della moda Il blu e il nero Non vanno insieme Altre due Noi ce l'abbiamo un po' Con il rosso E il nero Ma non si nota In realtà queste qua Ci sono abbastanza piaciute Sì sono molto comode Più che altro Per il fatto che Essendo rigide Sono molto carine E molto resistenti È molto molto carina Abbastanza carina E poi l'unica Che è Diciamo più carina È questa Questa qui È super mega carina Perché è tipo effetto marble Striccia dopo un secondo Sì si riga Molto facilmente Carina Confermatecelo nei commenti Che le nostre Sono più belle Sono tutto proprio Su un altro livello Su un pianeta E nulla così finisce la nostra Collezione di cover Per i nostri iphone Spero che vi siano piaciute Le cover perché Veramente noi le stradoriamo Abbiamo fatto la selezione Accurate Fateci sapere magari qui sotto Cosa ne pensate Nei nostri progetti Di come sta andando avanti E se avete il piacere Fateci sapere qui sotto Cosa vorreste trovare All'interno del sito Perché noi appunto Come vi abbiamo detto tante volte Il sito è un Continuo work in progress E a noi fa sempre piacere Anche sulle nostre mail Alli chiocciola Alle auriciarne.it E auri chiocciola Alle auriciarne.it E nulla Noi adesso Vi mandiamo un grosso bacione E salutiamo Dieci persone scelte Dal video precedente Allora io ho messo Provvisoriamente Questa cover Sempre nostra Che troverete sul sito Allora iniziamo da Valeriana Un bacione Vi Un bacione anche a te Gaia Un bacione Sofia Un bacione anche a te Giulia Un bacione Alice Un bacione anche a te Serena Un bacione Un'altra Giulia Un bacione anche a te E nulla Noi vi diamo appuntamento Lunedì con il prossimo video E vi ricordiamo Che avete tempo Entra oggi Per iscrivervi Alla newsletter Riceveri 10% di sconto Tidai sul nostro sito Vi lasciamo qui Una piccola registrazione Siamo di come si fa Tra parentesi Se vi iscrivete Anche venerdì O i prossimi giorni Si può iscrivere Alla newsletter Però non si riceverà Questo sconto Per questo weekend Esatto Però ce ne saranno Moltissimi altri in futuro Ciao Ciao Grazie a tutti.